Buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart in studio Cesare Martignan. Traffico regolare sull'intera rete stradale e autostradale toscana e sulla FIPILI. In A1 chiuse per lavori le corsie di sinistra tra Firenze Sud e Firenze Scandici in direzione Bologna. Per lavori fino a venerdì 10 maggio il raccordo siena Firenze sarà chiuso in entrambe le direzioni tra gli svincoli di Poggi Ponsi Sud e Colle Valdelsa Nord dalle 21.30 alle 6 del giorno successivo. Asfaltature a Firenze in vista del Tour de France la prossima settimana sarà la volta della prima fase dei lavori notturni in Viale Giannotti. Nell'anno 30 mercoledì 8 e giovedì 9 maggio in orario 21.6 sarà interessata la direttrice in uscita città nel tratto Gavinana via Bartolomeo Scala. Dall'ora 21 di oggi sabato 4 maggio alle ore 21 di domani 5 maggio è stato indetto uno sciopero del personale del gruppo Ferroviere Stato Italiane di Italo e Trenorde. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!